Lucia Spagnolo Opera Giochi d'acqua L'opera intitolata Giochi d'acqua Concentra tutta la sua potenza in soli 80 cm per 80 cm La pittrice, con maestria nell'uso della spatola Riesce a catturare la forza travolgente dell'acqua Un elemento così notevole Osservando il dipinto si ha la sensazione di essere immersi completamente Circondati dalla schiuma Quasi si percepisce il rapido allontanarsi di un peschereccio Dalla nostra vista L'unica certezza è la sensazione di essere proiettato in mare In una giornata di sole Con un profondo senso di benessere e vivore L'esecuzione della pittrice È un perfetto colubio tra una tecnica evoca Quella di William de Kooning È una palette cromatica Che richiama la tonalità di Monet Nel quadro Bain à la Groulier Le spatturate decise e vigorose Che creano vividi schizzi d'acqua Accentano ulteriormente la forza dell'opera Trasmettendo un'energia prorompente E un senso di vitalità Che rendono il dipinto straordinariamente convolgente e potente Che creano Djali Che creano di PEB